Con il passare delle giornate di torneo, l'ipotesi che Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sarebbero ritrovati nuovamente a giocarsi la finale di Wimbledon sembrava sempre più concreta. E ieri questa possibilità è diventata realtà, con i due a vincere le loro semifinali in modo in effetti tutt'altro che sorprendente. Ma iniziamo da Carlos Alcaraz che in Daniel Medvedev aveva di fronte un avversario che per caratteristiche tecnico-tattiche non gli aveva mai dato particolari problemi tranne in un'occasione però decisamente importante come la semifinale dello scorso US Open. Bisogna dire però che nonostante le premesse non molto incoraggianti, Daniel Medvedev ci ha provato, come ci sta provando del resto da mesi nel cercare di modificare un po' il suo tennis, di uscire dalla sua comfort zone per essere competitivo contro due giovani rampanti come Alcaraz e Sinner. E proprio come ha fatto qualche giorno fa contro l'italiano, Medvedev ha iniziato la partita bene, trovando una posizione in campo avanzata ma equilibrata, cercando di spingere per non lasciare in mano lo scambio ad Alcaraz, servendo bene e addirittura mostrandosi spesso nei pressi della rete per tentare di chiudere gli scambi molto prima del solito. Nel primo set tutto questo ha funzionato anche perché Alcaraz ha inspiegabilmente iniziato la partita in modo abbastanza prudente, scambiando molto, utilizzando parecchio, forse troppo lo slice di rovescio, ma soprattutto servendo davvero male, con poche prime in campo e per di più non particolarmente precise, gestendo, come gli era già capitato durante il torneo, i propri touri di servizio nel complesso in modo davvero poco poco concreto. Detto questo, il primo parziale si è comunque risolto al tiebreak perché, per quanto il piano tattico di Medvedev stesse funzionando, il russo ha comunque mostrato quello che rimane forse il limite maggiore in questo suo tentativo di evoluzione. Una qualità nei pressi della rete, nell'esecuzione al volo, che rimane insufficiente in cui, assieme a qualche soluzione diciamo accettabile, ce ne sono invece molte altre davvero insufficienti, qualche volta addirittura quasi imbarazzanti. È qualcosa che ha segnato a più riprese della partita e che si è mostrato anche nel primo set, pur non decidendolo perché comunque nel tiebreak Medvedev ha giocato alla perfezione e dominandolo dall'inizio alla fine. Ma a differenza di quanto accaduto agli US Open, quando perso il primo set sempre al tiebreak, Alcaraz andò in totale confusione, lo spagnolo questa volta ha mantenuto la calma, ha alzato le percentuali di prime e sul 2-1 nel secondo set, sfruttando un turno di servizio di Medvedev orribile e pieno dei pasticci a rete di cui parlavo prima, ha effettuato un break che ha segnato il set e a posteriore forse l'intera partita. Sì perché da quel momento in avanti, Alcaraz ha preso il totale controllo delle operazioni con un pattern, quello del break quasi immediato in apertura di set, che si è ripetuto sia nel terzo che nel quarto set. Quarto set che ha avuto un andamento un filo più complicato solo perché Alcaraz ha avuto il suo tipico momento di distrazione, rimettendo subito in partita Medvedev con un brutto game al servizio sull'1-0 per poi richiuderla definitivamente la partita con un altro break sul tre pari. Per Alcaraz negli ultimi tre set una prova di formidabile forza in cui ha dato la sensazione di avere ogni strumento tecnico, ogni soluzione per rispondere a qualsiasi problema l'avversario gli ponga di fronte. L'eccezione, per fortuna dei suoi avversari, rimane il servizio e la sua gestione complessiva che ha dei limiti e che in finale potrebbe essere un fattore rilevante. E lo potrebbe essere anche perché dall'altra parte della rete, in Djokovic, si troverà di fronte forse alla migliore risposta della storia del tennis che per di più contro Lorenzo Musetti ha confermato di essere in buonissima condizione fisica nonostante l'infortunio al ginocchio patito a Parigi. Una partita, quella contro Musetti, non facile ma gestita alla perfezione dal serbo trovando il modo di colpire quando necessario per risolvere in tre set e l'italiano ci ha provato e come accennato nello scorso video in fase di presentazione quando è entrato all'interno degli scambi partendo da una situazione quantomeno di equilibrio dopo i colpi di inizio gioco è riuscito a complicare le cose a Djokovic con quel suo continuo muovere in ogni zona del campo una palla sempre differente. Ma Djokovic non ha mai perso davvero stabilità e soprattutto ha avuto maggiore continuità nella combinazione servizio-risposta mentre Musetti soprattutto al servizio e nonostante delle buone percentuali di prima in campo qualche passaggio a vuoto come del resto anche prevedibile l'ha accusato. Detto questo la partita per due set è rimasta comunque in gioco spezzandosi diciamo solo nel tiebreak del secondo giocato alla grande da Djokovic il momento che ha rappresentato il definitivo corcevia del match. Non che Musetti dopo abbia mollato anzi e questo è un fattore positivo forse il più positivo emerso in queste settimane sull'erba con un'attitudine in campo di Musetti che si è fatta molto più tenace e continua nel mantenere attenzione e intensità anche nei momenti complicati anche nei momenti di frustrazione. E l'attitudine migliorata molto più matura agonisticamente è e sarà qualcosa di cruciale assieme ad una necessaria ulteriore crescita al servizio nel suo percorso di evoluzione progressi che adesso dovrà rendere suoi al 100% così da poter finalmente esplorare tutto il potenziale delle sue qualità tecniche che insomma sono davvero davvero notevoli. Quindi in definitiva che finale ci attende? Beh una finale in cui la capacità di gestire bene la combinazione tra servizio e colpo in uscita dal servizio sarà determinante e fare la differenza lì per Djokovic sarà possibile ma probabilmente sarà anche vitale perché questo Alcaraz a scambio avviato con una situazione di vantaggio oppure anche solo di equilibrio sembra davvero difficilmente attaccabile. Conterà anche la stabilità in termini di attenzione, di concentrazione, la continuità della prestazione e anche in questo caso Djokovic potrebbe trovare qualche crepa in un Alcaraz notoriamente spesso soggetto a dei passaggi a vuoto in termini appunto di attenzione. Passando a quanto accadrà oggi è la giornata della finale femminile tra Jasmine Paolini e la cecola Barbara Krejcikova. Krejcikova è una tenista quasi unica nel panorama femminile con delle doti tecniche speciali capace di colpire la palla con una fluidità quasi liquida direi sia di dritto ma soprattutto con il rovescio di toccare la palla bene, di giocare bene al volo, di servire in modo non potente ma estremamente preciso. E allo stesso tempo però è una giocatrice con una fisicità molto molto relativa, i piedi non sono veloci, le gambe non sono esplosive e la sua capacità di coprire il campo è dovuta solo ad uno straordinario occhio e senso dell'anticipo e ha un'ottima tecnica pura diciamo negli spostamenti. Rimane comunque il suo punto di fragilità ed è sicuramente lì che Paolini potrà incidere cercando di far colpire il più possibile Krejcikova in una situazione dinamica, in movimento, sfruttando il suo di dinamismo, la sua capacità di muovere la palla e se stessa in ogni zona del campo e di farlo con rapidità e in tempi stretti. È tutto per oggi, fatemi sapere che ne pensate nei commenti qua sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di mettere mi piace al video se effettivamente vi è un po' piaciuto, ma soprattutto valutate la possibilità di abbonarvi perché Slice si sostiene e i suoi contenuti sono possibili proprio grazie al sostegno degli abbonati che peraltro hanno accesso alla chat in cui parlare di tennis tra loro e con me ad altri contenuti esclusivi. Insomma fateci un pensierino, penso ne valga la pena.